buongiorno ragazzi ci siamo svegliati in realtà siamo quasi pronti per partire abbiamo dormito benissimo abbiamo anche due vicini dei ragazzi dal belgio e dall'ostria abbiamo dormito benissimo stamattina ho fatto un piccolo temporale adesso sembra che il tempo si stia riprendendo tra poco partiamo direzione Vaillant a dopo siamo arrivati quasi arrivati all'inizio del nostro viaggio in Friuli la tappa iniziale che è il Vaillant tra non molto dovremmo iniziare a vedere anche la diga questa è la strada che sarà al parcheggio vicino alla diga logicamente piove ma qualche goccia temperatura fresca siamo arrivati al parcheggio sopra la diga adesso percorrendo questa stradina vogliamo arrivare fino all'entrata principale dove però non faremo la visita guidata perché era da prenotare qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però si può tranquillamente sostare nel parcheggio antistante, gratuito, ovviamente senza nessun servizio, però molto molto grande e bello. E quindi credo che ci fermeremo qui. Proviamo ad andare a fare un giro per il pasino di Cimolais. Tira un po' di vento e fa un po' freddo. Speriamo di non beccare un'auropera. Grazie a tutti. Ok, avremmo voluto comprare qualcosa, ma oggi pomeriggio chiuso. Oggi pomeriggio proveremo a fare la pizza. Che ne pensa, maglia della pizza? Eh, che dici? Com'è? Buona pizza, vadata! Ciao! 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 A presto! Sì! 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 Secondo me viene troppo alto! Mi hai messo troppo! Un milione di pizze! No! Ma l'avevo fatta carina! Gli attrezzo! Che figata sta cazzo! Non si stacca! Ah no! Si stacca! La pizza è qui dentro! Vedremo cosa uscirà fuori! Cuocerà? Lo scopriremo tra poco! Non mi cazzo! Non mi cazzo! Non mi cazzo! Entrano! Faccio la pizza!